Ancora una volta un ben ritrovati con 5 in campo, la trasmissione settimanale che da mesi vi racconta, vi parla, vi fa vedere e sentire anche in radiocronaca diretta gli incontri del Grottaccia 2005. Parliamo del campionato regionale di C1. Quest'oggi manca qualcosa in questa puntata, sicuramente non vi sarà sfuggita perché mi trovo da solo nello studio, ma vediamo se questa sedia si riempie e ospiterà qualche ospite particolare. Vediamo un po' perché farla da sola non gusta. 8. E chi ci abbiamo qui? Ben ritrovati. Chi ci abbiamo qui? Michele Salvatori, ex giocatore del Grottaccia. Avete capito? Abbiamo fatto una sorpresa. Quest'oggi non parleremo molto del campionato attuale, o meglio, lo faremo con risultati, classifiche, come sempre, ma andiamo a proporre, a trovare una vecchia gloria, Michele. Come mai? Una sorpresa anche per i tuoi ex compagni di squadra, direi? Sì, diciamo di sì. Volevo fare questa sorpresa a tutta la società, a tutti i ragazzi, perché mi sono sentito chiamato in causa due settimane fa da Simone Valloriani, che saluto. Diciamo che mi ha chiamato in causa perché ha parlato come, diciamo, come persona, come io, diciamo, l'ho inserito nel mondo del calcio a 5. E questo mi ha fatto molto piacere. Sì, ce lo spiegò poi a microfoni, a telecamere spente. Era molto emozionato, ma gli faceva particolarmente piacere poterti. Valloriani, penso che non si aspettava che questa sua dichiarazione di qualche settimana fa avesse poi innescato tutto questo movimento positivo, ovviamente. Ma allora, per quanti ti conoscono ovviamente del Grottaccio 2005, ma per quanti non ti conoscono dietro le nostre telecamere, andiamo a scoprire chi è il nostro Michele. E sono... ti parli dei giocatori? Parliamo del giocatore, sì. Parliamo del giocatore, parliamo, dopo, se riusciamo anche qualche aspetto personale, magari ce lo mettiamo. Però parliamo dal punto di vista sportivo. Diciamo, dal punto di vista sportivo, ho fatto tutto il mio settore giovanile a Chiesonova, a Chiesonova, a Chiesonova, a Calcio, fino alla Juniors, di Under 18. Poi, arrivato a 18 anni, mi incontrai al bar con Samuele Tassi, sempre lui, un vecchio giocatore di Grottaccia, il pioniere, diciamo, di Grottaccia e di tutta la comunità, diciamo. Adesso, nominando qualche ex, non è che ci troveremo fra qualche puntata con altri ex? Sì, vediamo. Un to-seguirsi di persone, sarebbe anche una bella cosa, diciamo. Parlando con lui, ho detto, perché non viene a provare con noi che facciamo una società a Grottaccia? Era nel lontano 2005. E io dissi, perché no? Proviamo. E abbiamo provato. Da lì, dal 2005, sino al 2015, sono rimasto lì con loro. Con tante gioie e dolori, sia dal punto di vista sportivo, che dal punto di vista personale. Promozioni, campionato in campionato, play-out poi vinti, altro campionato che si vince. È stata una bella esperienza che, come abbiamo visto, anzi non sicuramente, solamente, ha lasciato il segno. Sì, diciamo che l'ho vissute tutte queste emozioni. Dall'arrivare, diciamo, quasi ultima partita, a prendere 10-15 gol il primo anno, al secondo anno arrivare a metà classica, poi a fare i play-off con la plassonata venale, con tutti i giocatori, diciamo, strapagati. Poi arrivare a vincere il campionato di Serie D, poi dopo un po' di anni a vincere inaspettatamente all'ultima giornata il campionato di Serie C2 e poi affrontare il campionato di C1. Questi sono 10 anni. Ho vinto sempre, diciamo, non l'ho mai perso là. È stata una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione che ha lasciato il segno e che, diciamo, i tuoi successori stanno, secondo me, degnamente portando avanti. Qualche partita un po' meno, qualche botta di sfortuna, qualche partita giocata male, qualcuna non giocata. Di questo faremo un'analisi, proprio vista da un esterno in questo momento, ma che conosce bene la situazione, conosceva bene la situazione, subito dopo aver fatto un po' il quadro dei risultati, classifiche della passata giornata. Bene, quindi restate con noi. E diamo uno sguardo ai risultati della scorsa settimana. Partiamo con l'anticipo del lunedì di Potenza Picena. Futsal Potenza Picena batte Grottaccio 2005 13 a 2. Eagles Pagliare, Vocastrum United 5 a 3. Ad Ancona, Futsal ASKL Ascoli batte Ancon Nova Marmi 5 a 3. Futsal Sambucheto, città Futura Montecchio 3 a 3. A Falconara, città di Falconara batte Dynamis 1990 a Falconara 4 a 3. Riviera delle Palme, Fano Calcio 5, 4 a 4. Polisportiva CSA Cagli, Real Fabriano 9 a 1. Ed infine Futsal Cobà batte CSI Stella 7 a 3. La classifica. Futsal Cobà 66 punti, Ancon Nova Marmi 51. Dynamis Falconara 44. Polisportiva CSA Cagli 40. Futsal SKL Ascoli 39. Futsal Potenza Picena 38. Con 37 punti troviamo Città Futura Montecchio e Grottaccio 2005. 32 punti per Città di Falconara e Riviera delle Palme. Real Fabriano 27. Futsal Sambucheto 24. Bocastrum United 23. Con 21 punti Fano Calcio 5 e CSI Stella. Ed infine con 17 punti Eagles Pagliare. Ed infine uno sguardo agli incontri di questo weekend. Fano Calcio 5, Dynamis 1990. Real Fabriano Riviera delle Palme. Grottaccio 2005, Ancon Nova Marmi. CSI Stella, Eagles Pagliare. Città Futura Montecchio. Futsal Potenza Picena. Bocastrum United Polisportiva CSA Cagli. Futsal SKL Ascoli. Futsal Cobà. Ed infine chiude la lista degli incontri. Città di Falconara. Futsal Sambucheto. Ed eccoci nuovamente in studio con Michele Salvatori, un ex vecchia gloria del Grottaccia 2005 che quest'oggi ha fatto non solo a noi ma soprattutto alla società del Grottaccia una grande sorpresa direi. e con lui analizziamo un po'. Ecco, intanto quale è stata l'ultima partita che sei riuscito a vedere del Grottaccia Michele? Sono andato a vedere contro il Futsal Cobà in casa dove hanno perso sinceramente non meritatamente. partita in vantaggio per 2-0 poi loro purtroppo sono, o anzi per fortuna per loro, sono di una categoria molto superiore e non hanno mai sbagliato, mai sbagliato quando la porta. Magari abbiamo peccato, abbiamo, hanno, scusa, ancora faccio parte di loro, di un po' di esperienza. Però è bello che ti senti ancora a parte assolutamente. Hanno peccato un po' di esperienza, sono tutti ragazzi giovani, dalle buone promesse. E poi c'è stata la partita di Potenza Picena, l'anticipo di lunedì, non era andata bene all'andata, c'erano stati diversi svariori e il Grottaccia aveva perso, ma è andata decisamente male, ahimè nel ritorno 13-2, forse un po' troppi. Sì, ho visto, anzi ho parlato diciamo con i giocatori del Grottaccia, non sono neanche entrati in campo hanno detto, hanno preso i primi dieci minuti, i sette gol, non si sa neanche perché, non lo sanno neanche loro, hanno detto. Non c'erano. Non c'erano, speriamo che ci siano per la partita di questo venerdì. Arriva l'Anconnova Marmi, seconda forza del campionato. Anconnova che però, come abbiamo visto dai risultati, è stata battuta dalla SKL Ascoli, altra squadra con la quale il Grottaccia si era confrontata a inizio campionato proprio vincendo 9-1 e ad Ascoli pure lì è andata decisamente male. Questi tre punti del prossimo venerdì saranno molto importanti per la zona play-off, anzi per loro credono, per la zona salvezza, che è il primo obiettivo. Poi sicuramente arriveranno delle soddisfazioni e arriveranno a fare play-off questi ragazzi. Quindi il tuo ci hai anticipato e ben venga perché il tuo pronostico sarà che i play-off ci saranno, la squadra c'è e può arrivare a tanto. Farti la domanda a chi potrà essere la vincitrice mi sembra una cosa abbastanza scontata, ma per il secondo posto l'Anconnova sicuramente oppure? Sì, secondo me l'Anconnova può arrivare, però speriamo che lasci tre punti al Grottaccia. Bene, bene, Michele. Invece, parlando un po' di te, dire perché sei andato via dal Grottaccia, ovviamente non faccia piacere, in quanto è motivi strettamente legati al lavoro, ci dicevi, quindi con dispiacere, ma se potessi ritornare? Sì, ritornerei sicuramente da quelle parti, però sicuramente non da giocatore, perché purtroppo ho subito molti infortuni, sia fisici, cioè fisici diciamo, non mi sento, diciamo, giocatore da quella categoria. Sono andato via anche da lì, anche per quello. Poi il lavoro... Il lavoro ovviamente ci vuole, poi gli orari, effettivamente anche un campionato che giocandosi quasi sempre di venerdì e con trasferte abbastanza impegnative crea non pochi problemi e lo abbiamo sentito anche con gli altri giocatori. Sì, e io lavorando a Maggiorada non potevo arrivare a cingoli tre volte a settimana, cioè con il tempo non c'ero proprio, assolutamente no. Una parola invece in merito soprattutto agli incontri casalinghi, ma anche le trasferte abbiamo visto che sono abbastanza frequentate, ma gli incontri casalinghi in particolare con una tifoseria molto calorosa, molto vicina, che hai avuto modo di riscontrare anche con altre società oppure Grottaccia-Cingoli è stata una situazione particolarmente piacevole? Sì, diciamo che Grottaccia e Cingoli è una situazione molto piacevole. Diciamo, non ho riscontrato da nessun'altra società un tifo così caloroso e partecipe a tutte le partite. Bene, e in ultimo, volendo salutare qualcuno in particolare o comunque la società, quale potrebbe essere il tuo saluto, il tuo messaggio alla squadra? Allora, io vorrei innanzitutto salutare tutta la società, non faccio nomi perché sicuramente ne dimentico e qualcuno si potrebbe aggrabbiare. Vorrei salutare i tre, noi eravamo in tre che siamo rimasti sempre noi, nel Grottaccia, io, Michele Fufi, il portiere Nicola Buonzervizi, che purtroppo siamo lasciati nel senso calcistico. Ecco, ma come saprai, perché abbiamo capito che segui questa trasmissione, in particolare ci fa piacere ovviamente, come avrai visto sono stati i nostri ospiti e continuano e avranno sicuramente piacere. Chissà che una replica anche da parte loro in una prossima intervista ci sarà. Ma magari, sarebbe bello perché un bel trampolino di lancio per questo sport fare, diciamo così, notizia e avvicinare i giovani direttamente al calcio 5 e non al calcio 11. Sì, decisamente vediamo che è uno sport che ha sempre maggior seguito, non solo di pubblico ma proprio di società, di giocatori, e sta diventando, io lo dico in modo ovviamente scherzoso, un hobby molto piacevole. Sì, ma più che hobby credo che a oggi si è diventato uno sport. Hobby era forse 10 anni fa quando un giocatore è finito, va a giocare a calcetto. Invece a oggi ci sono molte società che hanno il settore giovanile, hanno dei pulcini, diciamo hanno molte cose. C'è un bel vivaio che va al di là, infatti la parola hobby era proprio provocatoria e mi fa piacere che hai subito ribadito. Michele Salvatori, un'ex gloria del Grottaccio 2005, in questa puntata speciale e piacevole anche da parte della nostra redazione sportiva perché conferma quello che volevamo ottenere, cioè un seguito che andasse al di là della semplice squadra, della semplice sport, che arrivasse appunto all'amicizia e alle vecchie glorie. E diciamo che te hai aperto forse la strada a un altro tipo di discorso di trasmissione quest'oggi. Ma speriamo, speriamo perché era il mio volere fare una cosa carina e omaggiare, come ho detto prima, la società, che si merita molto. La società e soprattutto il presidente Tiziano, che saluto. Salutiamo anche noi il grande presidente, tutta la società, tutti i giocatori al quali soprattutto auguriamo un buon proseguo di campionato e che playoff siano perché veramente meritati con tutto il cuore da parte della nostra redazione. Ringraziamo ancora una volta Michele Salvatori nei nostri studi e i telespettatori, radio e telespettatori che ci hanno seguito ogni giovedì alle ore 20, canale 611, in web streaming, in Sibulcast, Radio Sto 7 TV e a seguire ogni giovedì poi alle ore 21 uno degli incontri casalinghi del Grottaccia 2005. Anche da Mario Di Iorio, un grazie e un buon proseguo anche con le nostre trasmissioni. Grazie a tutti.